A Teramo, con l'appoggio ufficializzato ieri da parte di tutto il centrodestra al candidato sindaco Carlo Antonetti per le prossime elezioni amministrative, si apre una sorta di bagarre politica nel terzo polo. Questo perché Italia Viva porterà la candidata Maria Cristina Marroni, mentre il partito azione appoggerà Antonetti assieme però a liste civiche come Futuro In e, come detto, tutto il centrodestra. Un'alleanza politica su cui è intervenuto il coordinatore regionale di Italia Viva Camillo D'Alessandro, che ha definito il caso Teramo una situazione anomala. Questo perché sempre, secondo D'Alessandro, solo qualche giorno fa i rappresentanti di azione giuravano che mai e poi mai sarebbero stati con la destra. Non si è fatta attendere la risposta da parte del coordinatore regionale di azione Giulio Sottanelli, che si è detto rammaricato per questa divisione sui candidati. Mi dispiace, c'è ancora tempo, ci auguriamo che si possa risanare anche questa fase per fare in modo che, se in questa fase oppure al limite anche nella fase successiva, l'eventuale ballottaggio, perché, ovviamente, non essendo stata condivisa all'inizio di questo percorso la candidatura della Marroni, che ricordo è un'ottima professionista, una buona candidatura, ma, se ricordiamo bene, anche all'Aculo è successo la stessa cosa. Non ne farei un caso, facciamo queste amministrative, stiamo costruendo un percorso comune con gli amici di Italia Viva, quando il partito sarà unico, ovviamente ci saranno gli organismi democraticamente eletti, ci saranno le scelte che gli organismi riterranno di fare. Il coordinatore regionale di azione Giulio Sottanelli ha voluto inoltre ribadire il fatto che la decisione di appoggiare Antonetti è arrivata quasi subito dopo la disponibilità di scendere in campo da parte del candidato. Antonetti è un candidato civico che è stato proposto da un gruppo di cittadini, alcuni anche di mia, ovviamente, conoscenza, e la candidatura di Antonetti, una volta che è stata messa sul piatto e lui accettata, è stata raccolta, condivisa e sostenuta anche da azione, successivamente è arrivato Futuro In, che è una lista che a termine comunque ha i suoi consensi molto radicati, a distanza di diverse settimane prendiamo atto che anche il centrodestra ha deciso di sposare il profilo del candidato Antonetti e il programma che Antonetti ha per rilanciare Termo, protagonista nella provincia e in Abruzzo.